Come è normale e giusto che sia, ovviamente non può mancare il suo parere su quello che abbiamo visto ieri sera, ma prima di cominciare ovviamente parlerà a 360 gradi di tutto ragazzi, senza peli sulla lingua, vi auguriamo una buona giornata perché questo video lo pubblicheremo come sempre alle 7 del mattino, quindi buona mattinata, buono studio, buon lavoro, buona università, buon tutto quel che farete anche se non farete una beata minchia perché ormai lo sapete, è lo slogan dei video delle 7 del mattino. Volevo rapidamente ricordarvi che alle 14.35 uscirà la live reaction e che abbiamo anche un terzo canale YouTube non di calcio, oltre un secondo canale YouTube di calcio, trovate tutti i canali se siete interessati qui sotto in descrizione oppure cliccando qui. Da dove vogliamo partire? Decidite. Dai fischi? Vai! Che secondo me non c'entrano nulla con questa partita perché ovviamente si gioca Italia-Spagna e non, che ne so, Milan-Real Madrid, Milan-Paris Saint-Germain, visto che comunque c'è questa disputa tra Donna Rum e i tifosi del Milan che si sentono ancora feriti dopo l'addio di Donna Rum appunto per il Paris Saint-Germain. Non c'entrano nulla i club in questa partita quindi sinceramente trovo poco gradevoli innanzitutto, poco chiari i fischi indirizzati dal giocatore, subissato dai fischi. Quindi sinceramente non ne trovo proprio il senso, devo essere sincero. Hanno provato poi con gli applausi a coprire i fischi, ma io sono assolutamente d'accordo, hanno destabilizzato. Non è una cosa che sta nel cielo e nel terra, questa sera si giocava una partita fondamentale perché dovevamo confermarci come uno o nell'altro, non erano amichevoli. E soprattutto affrontavamo quella Spagna che il 6 di luglio, insomma parliamo di due mesi fa, due o tre mesi fa, quant'era, non mi ricordo, comunque l'abbiamo affrontata ed eliminata in semifinale. Quindi ragazzi diciamo che rivincere questa sera sarebbe stato ulteriore motivo di orgoglio e invece puntualmente ci siamo smentiti con le nostre stesse mani perché purtroppo non è arrivata una buona prestazione da parte nostra. La Spagna ci ha messo sotto, secondo me, nel palleggio soprattutto perché... La reazione c'è stata. La reazione c'è stata, però se tu vai a vedere il dato finale, 75% dopo la stessa manata da Spagna. Grazie, con l'espulso. Ok, hai provato a fare tutto il possibile, comunque nel secondo tempo hai poi trovato un gol, ma ormai era praticamente una partita chiusa, impossibile da recuperare, sotto comunque di un gol di un uomo. Sai che io ci stavo a credere? Quando ho visto il 2-1... Mi sembrava veramente troppo, troppo, troppo difficile. Io un minimo ci stavo a credere. La Spagna quando ci ha attaccato in quei momenti in cui noi eravamo sofferenti, eravamo un pochino disorientati, ci stavano facendo male. Ci hanno fatto l'1-0 su errore dei bastoni, poi arriva quasi il 2-0, papera da Donnarumma, clamorosa. Ecco qua voglio arrivare. Faccia sfuggire dalle mani un pallone che in altre occasioni forse con un pochino più di tranquillità... Secondo te i fischi hanno influito su Donnarumma su quell'occasione e in generale sull'Italia, secondo te? Comunque sentirsi fischiare, in maniera paradossale, no? Sentire fischiare Donnarumma è quindi anche, di conseguenza, portiere della propria nazionale. Ma soprattutto quello che ti voglio dire, io trovo anche un pochino ipocrita i fischi di questa sera a Donnarumma, perché quando si è trattato dell'europeo, la semifinale, la finale, tutti i zitti, tutti i modi, tutti a tifare per la stessa... Infatti io sta cosa... Nella stessa direzione. Perché tornavo a Milano. E quindi... E quindi... Gliela dovevano far pagare. Dove sta il problema? Gliela dovevano far pagare. Io veramente... E ci devono rimettere tutta la tifosera italiana. E' pazzesco, è pazzesco quello che ho visto stasera. Veramente lo trovo fuori di ogni luogo, fuori di ogni ragionamento logico. Veramente non riesco a parlare di altro. Ragazzi, non mi è piaciuto neanche a me. Non è un atteggiamento... Dice... Uno mi ha scritto, in più di qualcuno mi ha scritto, ma tu non puoi capire, non sei tifoso del Milan. Ma ragazzi... Ragazzi, la posso dire la cosa? Ma sti cazzi... Ma sti cazzi... Ma che cazzo me ne prego a me del Milan? Ma se stiamo a giocare una semifinale, possiamo andare in finale, le Nations League, stiamo a pensare a Donnarumma ancora sta storia col Milan. No, ma soprattutto ragazzi... E' capitolo chiuso, finito, punto, basta. Donnarumma e l'Italia sono una cosa. Esatto. Donnarumma e il Milan sono un'altra. Esatto, ragazzi, mi sembra tanto facile da comprendere, tanto lineare, cioè... Non lo so perché, vabbè. Io mi sono stranito, io mi sono stranito e poi ti lascio parlare. Sì, sì, sì. Perché ovviamente, per come si era indirizzata la partita, eravamo partiti a bomba, eravamo partiti benissimo, la Spagna stava a sbagliare, tutto quello che si poteva sbagliare, andatevi a riguardare la partita, se non ci credete. Dal momento in cui hanno cominciato a fischiare Donnarumma, stranamente so cambiate le situazioni, so cambiate le cose. Poi, sì, che Chiellini, che Bonucci ci mette del suo e se fammoni due volte, posso anche essere d'accordo, ma... Quello purtroppo fa parte del gioco. Fa parte del gioco, ma la tranquillità che te manca, perché comunque senti una situazione ostile all'interno dello stadio con il pubblico, se avessimo giocato sta partita senza pubblico, secondo te? Guarda, te dico la verità, non lo so fino a che punto, comunque saremmo riusciti a battere la Spagna, perché obiettivamente, ripeto, per quello che hanno fatto... Fabio, che come eravamo partiti, secondo te stavamo a far benissimo. Ho capito, sei partito, e poi? Che è successo? Qualcosa si è facciato? C'è stato anche delle situazioni che hanno destabilizzato, ovviamente. D'accordissimo, però, può, secondo me, incidere non al 100%. Ma è ovvio. Non dobbiamo crearci questo alibi. Non è un alibi, però intanto è una situazione di disturbo, che non ce doveva stare. Esatto, esatto. Questo io dico, ragazzi, questo io dico, la tranquillità. Non puoi andare contro la nazionale tua. Su questo sono d'accordo, su questo d'accordissimo, però comunque, in linea generale, ti ha anche destabilizzato questa cosa qua. Poi, però, ragazzi, la Spagna ti ha messo sotto, per quel poco che ha fatto, cioè, ti fanno uno, due, e finisce dalla partita, perché poi, Bonucci è spulso. Vabbè, ma pure l'errore d'insigne, se per questo... L'errore d'insigne, ragazzi, è grave. Però, quello che ho notato io, ho visto un'Italia lucida e cattiva, nei primissimi minuti, e poi un'Italia lucida e cattivissima all'inizio. All'inizio. Il tiro di chiesa. E poi, all'improvviso, un'Italia... Per quello io ti dico... La partita non si è un certo inizio, però. Sì, però, può aver influito il fatto che si sono sentiti rischiati e destabilizzati. Possibile che è così. Tutti i brocchi all'improvviso sono diventati. La nazionale che aveva vinto un europeo, avevamo partiti bene? Basta. Però ti posso dire a maggior ragione, una nazionale campione d'Europa non deve lasciarsi trascinare da queste cose che, per quanto possano essere destabilizzanti, dovresti riuscire un'anfinito a ricreare... Perché in conto è che te fischiano l'avversario, in conto è che te fischiano quelli tuoi. Lo so, lo so. Sì, sì, sì. Su questo c'è ragione. Però io, comunque, non riesco a dare un alibi totale per questa situazione. Ma manco io ce lo voglio dare. Però tu capisci bene che io sta partita la vorrei rivedere in condizioni normali per giudicare. Perché se io mi vedo una cosa del genere all'inizio e poi vedo che perdo in quel modo, con quelle leggerezze che l'Italia, comunque, bene o male, non aveva più mostrato, e permetti che io un'idea me la faccio, mi faccio una domanda e mi do una risposta? Sì, sì. Questo è quello che io penso. C'è quella ragione, perché comunque, fino ad un certo punto, c'è forse questo tipo di discorso. Poi, giustamente, se non c'è stata una certa situazione che abbiamo continuato e riperpretato per tutta la partita, secondo me, qualcosina alla fine te va ad incidere. Sono dispiaciuto. Fuori dalla Nations League. Fuori dalla Nations League. Adesso, domenica, giocheremo per il terzo e quarto posto. Ancora non sappiamo, ovviamente, come giocheremo. Ovviamente, ancora non sappiamo, però è una partita abbastanza inutile. Cioè, secondo me, sarà la partita degli scontenti, perché, ovviamente, saranno le sconfitte ad affrontarsi per un terzo e quarto posto che, obiettivamente, non conta nulla. Non conta assolutamente nulla. Non conta nulla. Ragazzi, io ci puntavo tanto. Io ci puntavo tanto, perché oggi, battere la Spagna ed eventualmente andare in finale... L'ho detto io all'inizio, sarebbe stata un'ulteriore riconferma e un terzo di orgoglio. Ma quello ti serve se vuoi puntare a mondiale. Però te posso dire la verità? Io non avevo delle buonissime impressioni. Cioè, per chi ci ha seguito durante tutto l'Europeo... Sa che tu avevi sempre delle ottime impressioni. Vi ricorderete che avevo sempre delle ottime sensazioni, qualunque partita dovessimo affrontare. Per questa sera, devo essere sincero, queste ottime sensazioni non ce ne ho avute neanche per cinque minuti. Percepivo, comunque, un certo tipo di disagio. Poi, comunque, avevamo delle assenze perché qualche qualcuno... Ce l'avevano pure loro. Ce l'avevano anche loro. Morata, Moreno. Morata, Moreno. A me ci mancava Belotti Immobile. Belotti Immobile. Chiellini? Chiellini? Eh, sì, buonanotte. Spinazzola. Eh, ma sì, vabbè, raga, scusate, mi sono messo un attimo completamente distrutto. Spinazzola, sì, comunque, raga, obiettivamente qualcuno ci mancava. Però, non lo so, quelle sensazioni che avevo durante l'Europeo, non lo so, non ce le avevo. Questa partita l'ho vista, non voglio dire, nata sotto la cattiva stella, però c'avevo sempre quella sensazione... Io dall'inizio, da quando hai cominciato a fischiare, ho iniziato a vederla nata sotto la cattiva stella? No, io invece ce l'avevo già da prima. Cioè, dal pre-partita, già c'avevo questa sensazione un pochino strana che qualcosa poteva andare per il verso... Non si può cambiare il passato, è andata come è andata. Le responsabilità della nazionale ovviamente ce stanno, perché ce stanno alla fine. Se uno va a guardare, gli errori sono stati fatti, ma vorrei rivedere, lo ripeto, quella partita giocata in condizioni normali e senza alcun fischio. Chi lo sa quello che sarebbe potuto accadere. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali. Esatto, lo finito, 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 Ciao ragazzi.